Presidente Sebastiani, non è ancora calcio vero, perché è un'amichevole, però ci avviciniamo, era un test con una pari grado, è arrivata questa sconfitta, quali valutazioni? Il calcio di agosto bisogna dargli le valutazioni, sicuramente una valutazione bisogna darla perché comunque si è incontrato una squadra di categoria e su un errore difensivo è preso gol, ma finisce lì, lascia il tempo che trova, alla fine ci sono ancora 15 giorni per prepararsi al meglio, deve arrivare ancora qualche giocatore, Aloy è arrivato, ha preso una botta e sta fuori 3-4 giorni, quindi piano piano vedremo il vero Pescara. Aloy sarà pronto per l'inizio del campionato? Beh, la seconda partita perché la prima è squalificata, quindi non ci sarà, però sicuramente non ha nessun tipo di problema perché ha preso una botta in allenamento dopo due giorni che era arrivato, quindi saranno qualche giorno di terapia e di riposo e rientrerà in gruppo. Senta Presidente, tornando al centro campo dopo l'innesto di Aloy, cosa avete in mente di fare? Si continua a parlare di questo possibile ritorno di Palmiero, c'è l'ipotesi anche di Tenko Rang, anche se sembra ora più difficile, a che punto siete per quel reparto dopo l'innesto di Aloy? Bisogna avere pazienza perché purtroppo, come dice un giocatore, prendiamo il caso di Ghion, che veramente è un caso emblematico, dove veramente la parola non conta più a niente. Cosa è successo? No, non è successo niente, fino al 14 sera il giocatore aveva parlato con il mister e ha detto che veniva a Pescara, che veniva solo a Pescara, poi ha scelto di andare a Catanzaro, ma per l'amore di Dio va benissimo. Però purtroppo il calcio è questo, quindi bisogna stare attenti, aspettare e quando capita l'occasione la fai, la chiudi e la porti a casa. Per continuare dall'attacco, Dursi sta andando a Foggia, almeno queste sono le ultime, conferma questa cosa Presidente. Poi se ci aggiorna su questa trattativa di cui si è parlato da ieri, di Sao, insomma, c'è stato questo contatto. Allora, nella trattativa di Sao io non so assolutamente nulla, per cui non posso confermare nulla. Per quanto riguarda Dursi, Dursi è un giocatore che piace a tante squadre, inserirci, quindi non mi meraviglio e piace pure al Foggia. È un giocatore che noi abbiamo sempre detto che ci piacerebbe riportare a Pescara, però ci sono anche le condizioni. Purtroppo bisogna guardare in questo campionato, bisogna guardare i budget, bisogna guardare le garanzie, perché poi sono tutti bravi a chiedere. Ma poi, nella verità, la verità è che alla fine della fiera ci sono dei vincoli talmente stretti in Serie C che se poi vai fuori rischi di creare dei problemi. Io i problemi non li voglio creare a nessuno. Ma Sao quindi è una butade, possiamo dire così? A me non risulta, poi, ripeto, io di Sao non so assolutamente nulla. Rientrerebbe però nei parametri, perché comunque è un giocatore anche attempato, però lei dice che noi non l'abbiamo per niente contattato. No, no, io non l'ho contattato di sicuro, quindi se poi dopo il direttore ha parlato col procuratore o ha parlato col giocatore, questo non lo so, perché, ripeto, questa settimana io sono stato veramente presente pochissimo. Quindi non ne so nulla, anzi, domani vedrò di fare una riunione col direttore, se c'è anche il mister, anche per parlare, per vedere quali sono i programmi da qui alla fine del mercato e poi vi potrò dire, ma a me non risulta. L'ultima, Vergani? Vergani è un giocatore, questo ve lo posso confermare, è un giocatore che abbiamo chiesto già all'inizio del mercato, solo che qua tutti quanti aspettano l'A-B, quindi bisogna aspettare, anche lì bisogna aspettare, è un profilo molto valido, è un giovane molto forte. Anche Palmiero aspetta l'A-B? Ma Palmiero, secondo me, potrebbe anche avere tutto il diritto di aspettare un'A-B, il problema è che qui aspettano un'A-B pure quelli che non ci hanno mai giocato e quindi Palmiero fino adesso qualcosa ha dimostrato.